Rischi di avere opere impattanti dal punto di vista ambientale in Abruzzo non ce ne sono. Le opere che si faranno devono essere assolutamente in linea con tutti i requisiti ambientali. Risponde così alle domande dei giornalisti il ministro della questione territoriale Claudio De Vincenti in merito alla riforma nazionale sulla valutazione dell'impatto ambientale. Una questione delicata e complessa che tira in ballo anche il progetto della SNAM sull'area Pelini a quello della centrale del metanodotto. No, semplicemente è un adeguamento alla normativa europea sulla valutazione dell'impatto ambientale quindi credo che sia una normativa che consente di stare all'avanguardia nella tutela ambientale in Europa e questo ha un impatto generale sulla qualità ambientale di tutto il nostro paese. La domanda precisa però fa riferimento alla centrale del metanodotto SNAM. Ci si chiede se il decreto legge sulla riforma nazionale dell'impatto ambientale possa soggiocare il no espresso dalla regione. Sull'argomento De Vincenti non si sbilancia ribadendo che le opere che si faranno devono essere assolutamente in linea con tutti i requisiti ambientali.